questo è il college magico e siamo tutte studentesse il mio skateboard preferito un po di magia e posso andare a lezione ciao è l'ora della lezione ciao ragazze cosa c'è sulla lavagna? oh no è un portale magico salve ah mister noi è qui spero che abbiate studiato dove eravamo rimasti? non il muschio ci sono circa 18.000 tipi di muschio nel mondo questo è così noioso avete preso appunti? ma certo il mio cappello magico vai vai mister noia ma dov'è andata? oh sì questo è molto più divertente che stare in classe ma devo tornare indietro dove sei stata? è colpa del cappello giusto dammi la mano cosa? se ne sono andate entrambe non è giusto wow una giostra è fantastico andiamo su tutte le giostre prima questa non ci siamo ancora state andiamo sto per addormitarmi cosa? dove sono gli altri? siamo tornate voglio venire anch'io datemi le mani non così in fretta la lezione non è ancora finita dove eravamo rimasti? più di 7.000 tipi di muschio sono usati nella magia era un bel cappello il nostro divertimento è andato Caroline non posso nascondertelo ho una cotta enorme per te Caroline? ma dov'è andata? oggi è il giorno dell'animale domestico e io ho portato il mio gatto ma è un giocattolo hai bisogno di un vero animale domestico? pensi che questo sia un giocattolo? fagliela vedere piccolo ti credo bravo gattino ora vedrete i miei animaletti un po' di magia eccoli qui folletti della cornovaglia wow ricopri un barattolo di pasta effetto neve cuoci seguendo le istruzioni della confezione copri il tappo con dello spago incolla all'interno un'immagine dei folletti della cornovaglia decora il collo del barattolo con dello spago inserisci un filo di lucine chiudi il barattolo e il tuo animale? il mio animaletto? aspetta ehi verme ci sei? vieni fuori spero che ti sia divertito nella tua mela che schifo la polvere di fata funziona magicamente sì il gatto è venuto benissimo hai una base per la faccia del gatto con l'argilla polimerica aggiungi gli occhi giocattolo e modella una faccia di gatto sfinge dettagliata attacca uno strass e un gancino cuoci seguendo le istruzioni della confezione colora con vernice e acrilica aggiungi una cordina Amanda, questo è per te un amuleto porta fortuna grazie è così carino ti sta bene? buon pomeriggio oggi avrete un esame congratulazioni oh no ecco i vostri compiti il tempo inizia ora i nostri aspiranti maghi non sono particolarmente bravi in queste cose non capisco che succede ad Amanda? non si copia ok dov'è il mio specchio magico? attivazione dell'occhio di gatto quale risposta ha scelto Amanda? grande grazie gattina tempo scaduto consegnate i fogli i risultati sono disastrosi F cosa? è una F ma perché? F più beh almeno c'è un più devo regolare il suono ecco qua boh la vafer wow Amanda sta spostando di nuovo il cibo con il potere del suono wow ciao ci insegneresti? è facile ecco il caffè tempi smarti perfetto aggiungi un disegno all'interno di una tazza di ceramica usando pennarelli per ceramica decora anche il piattino amo le tazze della fortuna io ho un cuore è davvero lui? oh sono buffi quelli? perché? che strana fortuna una tazza rotta? ma che significa? oh capisco significava una tazza rotta devo rinfrescare il mio trucco ok che colore scelgo? luminoso un pennello magico? fatto! sono sempre bellissima in questo specchio applica l'argilla autoindurente su uno specchio modella una mezzaluna aggiungi una texture rimuovi l'argilla in eccesso aspetta che si indurisca colora con vernice acrilica e polvere perlata fissala con smalto acrilico oh no! è un brufolo! è gigantesco! non posso farlo vedere a nessuno una gomma perfetto una magia e cancellerò questo brufolo oh no! ho esagerato! la magia riporterà tutto alla normalità e il pennello magico toglierà il brufolo salve oh signor Philip così bello che carino cominciamo la lezione di magia wow queste candele sono così insolite versa acqua calda in un contenitore la temperatura dovrebbe essere intorno ai 40 gradi immergi le candele diventano flessibili nell'acqua calda ora puoi modellarle fuoco appare! wow fuoco svanisci incredibile ora tocca a te la polvere di fata mi aiuterà ha funzionato nice brava Emily dai tu ci provo fuoco brucia sì oh troppo fuoco ehi bisogno di più pratica scusi brucia dai ehi ops ho esagerato fuoco svanisci amanda stai attenta hai quasi bruciato il college è ora di tirare fuori il mio libro di incantesimo sceglierò un nuovo vestito mentre nessuno guarda copri un pezzo di cartone con del nastro biadesivo attacca le parti di finta pelle attacca le parti di una copertina su un pezzo di finta pelle avvolgi i bordi copri l'interno con del feltro fai il lati del libro con del cartone ricoperto di carta stampata incolla dei nastri elastici per tenere un tablet decora la copertina con adesivi e aggiungi un titolo inserisci il tablet amanda concentrati non riesco a fermarmi ha trovato il vestito dei miei sogni amanda perché hai un libro questa è lezione di arte dov'è il tuo lavoro? ops ti piace il mio ciondolo magico? taglia le cannucce colorate in piccoli anelli metti la base di un ciondolo su carta da forno versa gli anellini inforna per 15 minuti a 150 gradi incolla un pezzo di cartone a specchio aggiungi una catenella carino ma cosa fa? è un ciondolo dell'invisibilità ehi! non funziona! ma certo! hai bisogno di polvere di fata la magia è tornata! ciao a tutti! ecco l'insegnante allora chi vuole rispondere? io! ok! emily la prima regola della levitazione? ma perché sempre lei? ok! seconda regola qualcuno? io la so! è insopportabile dovremmo usare il tuo ciondolo dell'invisibilità? hai ragione! emily questo è per te wow! oh grazie! attiva! ha funzionato! ma dov'è emily? bene! rispondi tu! quando sei in un college magico anche la pulizia lo è arramadietto apriti! dove sono? aiuto! buon pomeriggio è l'aula sbagliata cosa ci fanno qui quelle normali studentesse? la lanterna magica dell'onestà mi mostrerà la verità ma certo lo immaginavo fatto il misfatto! ciao! iscriviti al canale metti un like e clicca sulla campanella ti è piaciuto il nostro college magico? scrivi qui sotto quale artefatto magico ti è piaciuto di più non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom è piaciuto di più è piaciuto di più